Buongiorno a tutti, eccoci qui, siamo sempre più vicini ormai al ritorno in campo al 4 gennaio alla sfida con Napoli ma soprattutto tra due giorni avremo delle risposte belle e importanti su lo stato di condizione dell'Inter su Romelu Lukaku, sull'intesa con Dzeko, ultimo esame, test precampionato con il Sassuolo chiaramente se ci fosse un ulteriore progresso rispetto a quanto abbiamo visto con la regina che era già incoraggiante, si inizia a delineare già la formazione anti-Napoli anche se mancano ancora Lautaro e Brozovic che però sono in arrivo ormai un paio di giorni anche loro saranno della partita rientreranno su Milano, incominceranno a fare un lavoro di ripresa e preparazione e poi starà Inzaghi fare le sue scelte, decidere dopo aver appurato il loro stato di forma, la loro condizione quello che possono dare soprattutto sul fronte Lautaro e vedere un po' insomma che succede, che succede e chi schierare contro il Napoli abbiamo detto più volte, partita fondamentale in cui si può riaprire qualsiasi possibilità di scudetto che non si può più sbagliare al momento si va, come sottolinea il teccaldo più famoso di Youtube verso la coppia Dzeko-Lukaku i due, le due torri, i due colossi il progetto originario che fu di Antonio Conte che potrebbe tornare molto utile anche a Simone Inzaghi da valutare lo stato di forma di Lautaro come rientrerà motivato poi parliamo con un'ampia pagina di mercato perché ci sono nomi nuovi, nomi vecchi c'è chi se la canta e se la suona come un po' fa la gazzetta oggi in copertina Lautaro che vuole restare ma non c'è mai stato il dubbio contrario si è ipotizzata una sua cessione ma vi abbiamo detto anche che sono tutti discorsi che non si possono fare adesso per la fine della prossima stagione è troppo prematuro pensare a degli addi a delle cessioni quando poi non ci sono delle offerte concrete sul tavolo quindi registriamo la prima pagina di oggi un po' così con qualche diffidenza buone notizie che avevamo anticipato ancora prima che accadessero a farvi capire insomma la qualità che comunque vi portiamo ogni giorno nonostante gli ossessionati che pensano solo a noi e a denigrare e a insultare anche il giorno di Natale ma ci fanno solo e soltanto pubblicità ci fanno solo e soltanto crescere il canale quindi andate pure avanti andate pure avanti no problem dicevamo abbiamo anticipato il ritorno in gruppo di sia D'Ambrosio che anche Correa che hanno fatto un'ora e mezza anche ad alta intensità insieme alla squadra quindi gruppo al completo aspettando di capire le condizioni di Brozovic che era appunto uscito un po' malconcio dal mondiale gli esami strumentali però avevano escluso qualsiasi tipo di problematica e dunque adesso però bisogna rivederlo magari attuare un po' di cautela come è stata fatta con Dumfries che non lo si è fatto giocare contro la regina proprio per ripartire soft adesso però è pronto e bisogna adesso dare risposte importanti blindare la difesa cercare di non fare più tutti quegli errori e prendere tutti quei gol che si sono subiti nella prima parte del campionato per fare una rimonta epica non si può sbagliare abbiamo sentito in esclusiva le parole di Nzaghi a Sport Mediaset che ci crede assolutamente fermamente anche in virtù del rapporto che è riuscito a costruire con tutta la sua squadra i suoi giocatori qualcuno pensa che sia un punto debole secondo me invece Dzeko che lo chiama Simone proprio per l'amicizia che hanno tra i due Skriniar che sottolinea l'umanità come principale qualità il rispetto che comunque hanno tutti i giocatori nei suoi confronti può essere una delle chiavi anche per provare cercare una rimonta che con un Lukaku in più con un Brozovic reinserito in cabina di regia magari con un doppio play alla Conte alla Eriksen insieme a Cialanoglu si può secondo me provare a fare qualcosa posto che col Napoli riesci ad accorciare perché sennò diventano veramente distanze insormontabili quindi quindi ipotizzando un 11 anti-Napoli in questo momento Onana Skriniar a Cerbi bastoni mettiamo Dunfris a destra con Di Marco a sinistra mettiamoci ancora Mkhitaryan con Barella e Cialanoglu però adesso appena torna Brozovic cerchiamo di capire se è ancora un po' acciaccato se è pronto se c'è un po' di cautela da utilizzare per il suo rientro in squadra al 100% e poi ci mettiamo la Luzze Dzeko anzi Lukaku e Dzeko le due torri al momento sembra la soluzione più probabile però anche lì abbiamo un Lautaro di rientro da campione del mondo abbiamo anche la soluzione d'emergenza Mkhitaryan in appoggio a Dzeko che può riservare anche delle delle belle sorprese anche se forse sarebbe un po' troppo poco pericolosa la squadra un po' così anche perché Dzeko non è un centravanti d'aria Mkhitaryan svaria molto si rischia di lasciare sguarnita troppo l'aria chiedo anche a voi ditemi cosa ne pensate come ve la giochereste con il Napoli come rinserireste Lautaro e Brozovic a rientro dai mondiali e soprattutto la coppia d'attacco anti Napoli chi vedete in questo momento più pronti e più pericolosi un'intesa che i due colossi devono affinare magari servirà proprio la partita di giovedì sperando che che Lukaku inizi anche a forzare un po' di più con la regina ha fatto qualche scatto contenuto chiaramente con cautela però è rimasto in campo 87 minuti se confermerà anche questo minutaggio questa resistenza questa condizione allora vediamo poi se è veramente un pacco per chi anche qui ascolta altre diciamo voci di mercato sul suo prestito che il Chelsea non sarebbe più convinto di fare questa operazione che lo vorrebbe riportare alla base intanto ricordiamo che la volontà del giocatore è sempre determinante decisiva che c'è già un principio di accordo che l'Inter però vorrebbe rivedere un po' il ribasso vista la la stagione e le difficoltà fisiche di Lukaku e però chiaramente prima di qualsiasi tipo di operazione si vuole capire se effettivamente come si spera Lukaku potrà essere il punto di forza e ripartenza dell'Inter il vero Lukaku quello che qualcuno si è dimenticato nello scudetto numero 19 la sua intesa con Lautaro ma anche con Dzeko senza dimenticare quel correa che speriamo riesca dare qualcosa in più rispetto a quanto ha fatto fino a questo momento di offerte per una sua cessione non si muove una foglia come è naturale dopo anche questo problema di infiammazione al tendine d'Achille aspettiamo anche Gosens che può essere sicuramente una freccia una carta in più motivato determinato e sempre più anche lui in condizione con una gamba che assomiglia a quella dei tempi dell'Atalanta anche qui c'erano solite cialtronate addirittura Zoppo l'hanno definito Zoppo morto ci dissociamo assolutamente uno che ti fa 60-70 metri di scatto e va a segnare il gol decisivo al Camp Nou è sicuramente Zoppo assolutamente questo capite ancora una volta con chi abbiamo purtroppo a che fare apriamo una bella pagina di mercato perché il titolo è su questo nuovo Neymar su cui l'Inter ha messo gli occhi da tempo che sta seguendo con relazioni su relazioni da diversi mesi lo chiamano il Neymar norvegese il Neymar scandinavo parliamo di Antonio Nusa classe 2005 ora in forza al Bruges e proprio nei discorsi col Bruges per Buchanan l'Inter si è informata un po' della situazione e vorrebbe provare a avvicinarsi a un talento puro dribbling grande qualità controllo palla conclusione che gioca a sinistra per rientrare sul destro e concludere in porta può giocare un po' dappertutto nelle zone d'attacco futuribile come pochi il primo 2005 ad essere andato a segno in Champions League proprio contro il Porto con il Bruges che ha una maglia nera azzurra chissà che non possano essere dei segnali delle anticipazioni secondo giocatore più giovane di sempre dopo Ansu Fati a segnare in Champions League grandissima qualità lo abbiamo detto però c'è anche grandissima concorrenza Transfermarkt riporta un valore di 4 milioni e mezzo al novembre 2022 ieri leggevo qualcuno che ipotizzava 40 milioni mi sembra folle da un mese all'altro che ci sia un aumento anche perché avesse fatto i mondiali o chissà che prodezze però i prezzi stanno veramente esplodendo ci fosse una valutazione congrua anche se il Brugio e Bottega sempre più cara come abbiamo visto nell'affare Decetelare con il Milan non ha mollato di un euro però se si riuscisse ad andare su un talento del genere così diciamo esplosivo e al tempo stesso di grandissima qualità basta guardare come abbiamo fatto anche i live le sue skills chiaramente non fanno testo i filmati solo di cose belle su YouTube però qui parliamo di grandissima qualità giovanissimo e potrebbe veramente essere un gran colpo di mercato quelli su cui andare a a ricostruire la squadra del futuro non solo Nusa origini nigeriane passaporto norvegese sulle orme di Holland con la Norvegia che rischia di avere una nazionale con Holland Odegaard e Nusa adesso pronto anche a giocare con i grandi dicevamo Buchanan per la fascia destra la gazzetta ripropone un vecchio obiettivo al posto di Dumfries che non è da escludere che Chelsea e Manchester United possano anticipare a gennaio il suo acquisto che risolverebbe parecchi problemi in casa nerazzurra lo stesso Bayern Monaco lo guarda con grande attenzione e con il Bayern Monaco si potrebbe fare un discorso per Masraoui che può giocare anche a sinistra come abbiamo visto al mondiale perché la destra era occupata da un certo Ashraf Hakimi nel Marocco esterno ex Ajax che si è svincolato dall'Ajax per andare al Bayern dove ha avuto un utilizzo discreto quindi secondo me è molto difficile riuscire ad andare a portarlo via al Bayern Monaco che poi è anche sulle tracce di Dumfries non so se uno scambio possa essere possibile sono rappresentati dallo stesso procuratore ex diciamo agenzia Raiola ora diretta da Raffaella Pimenta magari potrebbe spingere per questa soluzione anche se le inglesi hanno una potenza di fuoco incredibile senza paragoni basti pensare alle cifre che stanno girando ieri Liverpool ha chiuso per Gakpo l'esterno olandese del PSV che si era messo in luce ai mondiali per 50 milioni si parla di 100 milioni per Enzo Fernandez non so quanti ancora di più per Bellingham capite che non c'è non c'è partita con le inglesi situazione abbastanza complicata e difficile su Lautaro l'abbiamo detto poi leggendo la gazzetta magari facciamo un paio di riflessioni in più e non ci sono dubbi che lui voglia restare come ha sempre fatto sul fronte Skriniar vi abbiamo spiegato la situazione si aspetta una risposta prima della Supercoppa per metà gennaio definitiva anche perché l'Inter vuole capire come andare avanti e quale sarà la risposta di Skriniar la partita è ancora aperta se no ci sarebbe già stato una chiusura però abbiamo fatto anche i conti che con il bonus alla firma da 10 milioni o qualcosa di simile che il PSG sarebbe pronto a mettere sul tavolo con anche altri possibili squadre che si possono inserire soprattutto dalla ricca Inghilterra la partita è sempre è aperta ma sempre più difficile qualcuno ipotizzava una cessione già a gennaio del giocatore che però non credo che che possa accettare di cambiare squadra già a gennaio vedendosi così fumare questa commissione così ricca per venderla a gennaio ci vorrebbe l'assenso del giocatore che non credo possa arrivare anche se non escludiamo nulla e sappiamo molto bene come nel mercato le cose possono cambiare sempre da un giorno all'altro vi abbiamo detto di Coulibaly sfruttando i rapporti preferenziali con il Chelsea come possibile nome sostituto e c'è poi quello Scalvini che piace tanto di cui l'Inter ha già parlato ha provato a sondare il terreno cifre che girano anche qui da 50 milioni mi sembrano folli per un giocatore futuribile ma che ha fatto una decina di presenze in serie A tutto da vedere poi la sua crescita con Fabian valutato 15 come parziale contropartita può essere una diciamo una candidatura forte per un eventuale dopo Skriniar su cui però dobbiamo appunto aspettare la risposta alla decisione di Milan Skriniar che dovrà valutare tutto soprattutto il suo amore per l'Inter la fascia di capitano che probabilmente gli verrà consegnata nel frattempo si va avanti sugli altri rinnovi su Geko c'è una forte offerta del Galatasaray molto più ricca di quello che ha messo sul piatto l'Inter che offre 3 3 e mezzo più 3 più bonus diciamo un contratto di un anno più un altro con opzione con Darmian c'è già una sorta di accordo per un biennale a cifre più o meno simili a quelle attuali i primi di gennaio si farà un discorso anche con D'Ambrosio c'è già fissato un appuntamento col suo procuratore e anche lì ci sono buone possibilità così come per Cordaz visto anche il suo inserimento nel gruppo quindi direi che a parte Gagliardini che dovrebbe salutare togliamo anche il condizionale che saluterà a giugno rimane Andanovic che deve decidere se entrare nello staff di Inzaghi oppure andare da qualche altra parte con la prima ipotesi che ci sembra la più probabile anche se l'abbiamo visto molto molto in condizione soprattutto dal punto di vista fisico quindi magari potrebbe avere ancora voglia di giocare dipenderà anche dalle offerte che arriveranno vi chiedo anche un'altra cosa visto che è fermo anche il rinnovo di Zaniolo e la sua quotazione è scesa a una trentina di milioni scadenza 2024 c'è sempre sul giocatore la Juve ma ancora di più adesso il Milan ci sta facendo un pensierino avendo ancora anche il 15% della sua futura rivendita ci fareste anche voi un pensierino a Zaniolo a riportarlo a Milano magari appunto sfruttando il fatto che probabilmente non c'è ancora questo rinnovo di contratto con la Roma la fareste un'operazione del genere per andare a riportare e anche a riparare un vecchio errore domanda che vi lascio adesso vorrei leggere un tweet di un amico dell'amico Wazza grande tifoso dell'Inter che lancia un messaggio secondo me molto condivisibile in vista del nuovo anno pur amando l'Inter per me qualcuno dovrebbe prendersi una pausa se ne ho di tutto ciò che attualmente ne fa parte tranne qualche eccezione tranne qualche eccezione Zhang Marotta Ausili Antonello Inzaghi De Vrai Andanovic Di Marco Gosens Dunfris Mkhitaryan Dzeko Lukaku Lautaro Correa chi più chi meno ma chi ve lo fa fare arriveranno tempi migliori potrete tornare sereni quindi potete anche prendervi una pausa e tornare tra qualche tempo così la finite di sfracassarci i cosiddetti ogni giorno con tutto il vostro odio la negatività le balle le storielle come in amore ci sono delle pause nessuna patente di tifo o quant'altro ma sputare odio pure veleno sul proprio amore H24 365 giorni all'anno per me avvelena solo la propria vita vi diamo questo consiglio che condividiamo e magari vivete un po' più sereni pensando a qualcos'altro o prendetevi una pausa e magari può aiutarvi a stare un po' più in pace con voi stessi il riferimento a qualsiasi tipo di cialtrone a pif puf e paf che stanno arrivando è puramente casuale tanto abbiate un po' di pazienza ancora che siamo al 27 mancano quattro giorni al 2023 pensate un po' pensate un po' un po' di vostri messaggi adesso mi sembra arrivato il momento ringrazio ancora a tutti per il sostegno al canale che continua a crescere iscrivetevi mi raccomando per arrivare ai 40k molto più velocemente iscrivetevi anche al gruppo telegram scaricate l'applicazione marco barzaghi inter cercate il gruppo in basso a destra cliccate unisciti per avere tutte le notizie del giorno notifiche quando siamo in live quando escono nuovi video per non farci mancare mai nulla di tutto quello che succede e poi per chi ci sostiene attivamente c'è anche il link per il gruppo privato in cui potete chattare con me con tutto il nostro staff attivate la campanellina like al video condividete spammate un po' il canale messaggi i vostri messaggi Allora Nella quota rosa anche questa che aumenta veramente in modo importante ci fa solo un gran piacere la telenovela su screen sta diventando stucchevole la società non avrà avuto molto rispetto per lui mettendolo sul mercato l'estate scorsa ma lui sta facendo altrettanto con noi tifosi decidere se al più presto cosa vuole fare così ci mettiamo non andiamo in pace però anche qui voglio dire a parte una pubblicità tra l'altro di Save the Children che ci fa assolutamente gran piacere dicevo come si può chiamare pirla come dicono qua a Milano ci dissociamo però uno che come si potrebbe che accettasse 20 milioni cash netti in più cioè sarebbe in ogni caso comprensibile la sua scelta e anche comprensibile la sua indecisione la posizione difficile in cui si trova in cui da una parte ha il Paris Saint Germain ma non solo e dall'altra il suo amore per l'Inter probabilmente anche una fascia da capitano che gli darebbe ancora più responsabilità e comunque un buono stipendio non pazzesco come quello che gli viene offerto però c'è una differenza così abissale che è chiaramente secondo me in ogni caso comprensibile sugli errori della dirigenza come scrive Roberto c'è stata sfortuna come abbiamo spiegato perché c'era già una sorta di accordo poi l'irruzione del Paris Saint Germain ha fatto saltare il banco così come la Juve su Bremer ha fatto saltare la sua cessione e in ogni caso abbiamo detto i conti si fanno alla fine i bilanci in ogni caso comunque rinnovare Scrinia è un'operazione da una cinquantina di milioni all'ordo quindi tutto poi da vedere magari puoi prenderti Scalvini con molto meno è un giocatore futuribile con un ingaggio di due milioni un terzo di quello di Scrinia che potrai poi un giorno rivendere magari a cifre maggiori chi fa della difesa della nostra amata Inter o una ragione di vita deve essere considerato specie protetta intorno a noi vedo solo lanciatori di fango e cialtroni che buttano il sasso e nascondono la mano a cominciare da certa stampa e da certi pseudo addetti ai lavori grazie Marco per quello che fai anche se non sono un commentatore abituale grazie a te Angelo Onofri sono orgogliosamente iscritto ti ascolto e ti ammiro e sono parole veramente che ci ci danno una forza incredibile Alessandro Leone grazie davvero per tutto quello che fai per noi la tua compagnia è sempre un piacere la situazione iscritti al Miratrista davvero dell'aver rifiutato quei 60 milioni che ci avrebbero permesso di prendere Bremer sempre 50 mai 60 e in ogni caso poi è diventata una questione di principio e l'Inter comunque si faceva forte del fatto che avesse già una sorta di preaccordo per un rinnovo pensava che non ci fosse più neanche il bisogno no? mancasse solo la firma Mario fa bene ci ricorda una preghiera per tutti quelli che stanno lottando Gianluca Pelé tutti i nostri amici che ci scrivono ogni giorno Skriniar andrà a breve in agenzia viaggio a acquistare il biglietto per la destinazione di futura le persone mercenari non passano le persone mercenari e non passano la benemata i tifosi restano Giusewami per lo scudetto non so anche perché ricominciare subito dal Napoli la vedo durissima però non ci poniamo limiti tanti auguri a tutti i linteristi ancora Stefano Colombo grazie per il grandissimo impegno che ci permette di avere sempre notizie effettive sull'Inter ogni giorno Giordano un pensiero speciale a chi è in difficoltà tanti auguri a te a tu fratello a tutti i veri tifosi su Skriniar spero tanto che scelga un'altra squadra speravo non rientro tra oggi e domani di Lautaro e Brozo Mario Gabardi manca poco manca poco Fabio si dice un po' deluso da Skriniar capisco che ci voglia tempo e pazienza ma sembra un dispetto verso la società è che c'è troppa differenza per quello grande indecisione comunque la partita è sempre aperta può succedere ancora di tutto anche se più giorni passano più il pessimismo diciamo che aumenta auguri ancora a tutti Frank Nerazzurro anche oggi hai dato prova di dedizione a questo lavoro che svolgi senza sosta per tenerci sempre aggiornati siamo qui apposta per non farvi mai mancare nulla adesso facciamo un po' di rassegna stampa una copertina della gazzetta che vi ho detto che mi lascia un po' così perché nessuno ha mai avuto dei dubbi a riguardo copertina dedicata al ritorno di Lautaro c'è sempre l'Inter praticamente in prima pagina un po' di te caldo non fa mai male dopo le voci di cessione che hanno messo in giro loro Lautaro resto all'Inter l'argentino chiama Inzaghi sto bene crede nella rimonta vuole solo Nerazzurro poi il Milan punta Zagnolo il Napoli subeto Gakpo colpo Liverpool nuova Juve con nuovo CDA tutti grandi esperti del settore per le battaglie che attendono i bianconeri il Toro chiama sto bene e nel futuro vede solo Inter l'argentino sarà a Milano giovedì con l'obiettivo di vincere lo Scudetto subito dopo la Coppa del Mondo come un certo Materazzi venerdì il primo allenamento per convincere Inzaghi a schierarlo dal primo con il Napoli magari una telefonata per chiedere un paio di info non sarebbe male Lautaro chiama Marco Materazzi suona bene no? pensando a quel che è già stato a quel che è già a quel che potrebbe essere l'ex difensore l'unico giocatore tra i 20 interisti campioni del mondo ad aver firmato la doppietta dei sogni in successione tra 2006 e 2007 un mondiale vinto e poi lo Scudetto roba che non smette di festeggiare puoi pure piazzare le scarpe da calcio nell'armadio tanto verresti ricordato per sempre in ogni caso ecco Lautaro può imitare Materazzi vuole farlo da subito ha intenzione di convincere Simone Inzaghi a schierarlo subito titolare il 4 di gennaio la Premier su Dumfries c'è il marocchino in pole c'è il United ancora in pressing sull'olandese se partisse a gennaio assalto all'esterno del Bayern vi ho detto valutazione adesso che è già sui 25 milioni di Masraoui e non vedo perché il Bayern con la sua potenza dovrebbe privarsene anche perché ha avuto un bello spazio comunque con i bavaresi poi i regali più attesi da Lukaku a Chiesa voglia di riscatto nella lunga corsa verso il titolo Roby neanche il Tuco secondo la Gazzetta possono essere i turbo per la rimonta sul Tuco abbiamo qualche dubbio Corriere dello Sport in copertina qua si parla di un altro colpo in canna per il Napoli un altro Georgiano Vernazze nuovo talento aspettando l'Inter rinnova Lobotka e Lautaro vuole è il dubbio Lukaku invece vuole esserci Gieco non è andato in Catara e si è allenato al meglio il test dell'Inter contro Sassuolo prima della ripesa in campionato darà delle indicazioni intanto Scalvini è bloccato potrebbe andare a giugno all'Inter stop alle sirene della Premier Fabian la pedina per convincere la Dea a chiudere l'operazione chiudiamo velocemente con tutto sport appuntamento ore 13 Sport Mediaset per altre novità ultimatum ma scrini per quanto riguarda l'Inter che vuole una risposta e poi ne parliamo in live questa sera Darmian e Andanovic in coda per il rinnovo Inzaghi ci crede buona giornata